Come vi siete svegliati stamattina? Come si vive il giorno dopo, il lunedì dopo, un derby del genere? Dite un po' come state voi. Io vorrei trarre delle riflessioni, dei ragionamenti dal derby di ieri, non tanto per il derby in sé, perché il derby è sempre una partita importante, è sempre una partita da vincere, insomma, solite banalità, ok. Però la partita di ieri, cioè il derby di ieri, è arrivato in un momento in cui l'Inter degli scorsi anni probabilmente non avrebbe saputo fare quello che abbiamo fatto ieri. Ma non solo per la rimonta, cioè non è il fatto della rimonta se vai sotto 2-0, non sto parlando della partita in sé, sto parlando proprio della partita a 360 gradi, cioè anche il momento, cioè gennaio, febbraio, la solita crisi, dopo il calcio mercato, quando c'è la Juve che perde, ti dà la possibilità e tu la puoi sfruttare. L'Inter degli scorsi anni queste occasioni non le coglieva, mai. Si vinceva il derby, anche gli scorsi anni abbiamo vinto dei derby, non è quello. Per quello voglio capire qualcosa oltre, diciamo, no? Oltre alla partita in sé. Chiaramente il fatto di recuperare, rimontare, fantastico, ovviamente. Però il significato di questa partita è anche, diciamo, di un Inter che sta cambiando e che sta veramente mutando nella sua mentalità. Ieri siamo riusciti non solo a sconfiggere il Milan e quindi portare a casa il derby, non solo a rimontare la partita, cosa difficile in qualsiasi campo, non solo per quanto riguarda il Milan, se sei sotto 2-0 e poi finisci 4-2 nel secondo tempo, è una cosa difficile ovunque con le grandi squadre, tutto sommato, ma saper anche sfruttare l'occasione che ti danno le avversarie. Quindi ieri abbiamo lottato contro il Milan e la Juve in un frangente unico e anche contro noi stessi. Quindi ieri abbiamo lottato contro l'Inter, contro il Milan e contro la Juve in una partita sola. Lo spettro della crisi, no? Del fatto che a gennaio, febbraio, qualcosa sempre a scricchio, la fa un po' fatica. Succede che hai anche delle psicosi perché ci butti dentro tutto, gli infortuni, ti sembra quasi che tutto giri al contrario, no? Anche il capitano, addirittura Andanovic, poi parleremo anche di Andanovic e di quello che si sta facendo per sistemare quel problema lì. Comunque capito, quindi secondo me la partita di ieri ha una valenza molto importante a 360 gradi. Spero che anche voi abbiate pensato a questa cosa, a questo fatto. Però venendo alla partita, ecco perché poi ovviamente lo spirito un po' tafazzista degli interisti rimane sempre. Si affievolisce un pochino quando si vince, quando le cose vanno bene, però in realtà qualcosa rimane sempre. Infatti più di qualcuno dice, no ma abbiamo fatto una brutta partita, se non segnava Brozovic non cambiava niente, insomma tutte queste cose qui, bisogna sempre vederla un po' in maniera negativa. Tutto sommato il Milan ha fatto meglio, poi io mi sono andato a vedere comunque i dati e vi dico giusto tre dati per farvi capire un attimo l'andamento forse della partita o comunque la bilancia della partita. 11 ti rimporta da parte dell'Inter contro 5 del Milan, quindi vediamo che c'è un equilibrio, 4 a 2 è il doppio di 2, no? 4, 11 su 5, quindi siamo giusti. No, perché più di qualcuno, ho sentito anche nel post partita dire, eh ma l'Inter ha tirato quattro volte in porta, ha fatto quattro gol. Il Milan ha tirato di più e ha fatto solo due gol. No, non è vero. 11 a 5, sono i dati ufficiali della Lega Calcio. 9 occasioni da gol pure, oltre i tiri in porta. 9 contro 4 del Milan, quindi anche qui sono molto equilibrati. Poi un altro dato molto importante, questo va a farvi capire forse la mentalità e la tenuta della gara, l'agonismo della gara. 101 palle recuperate da parte dell'Inter contro 14 del Milan. Ripeto, dati ufficiali, non me li sto inventando io, le statistiche della Serie A, fornite proprio dalla Lega Calcio, dalla FGC, insomma dagli organi ufficiali. Quindi 101 palle recuperate dell'Inter contro 14 del Milan. Chiaramente, chiaramente c'è anche un discorso di possesso palla più milanista nel primo tempo, poi sono un po' cambiate le cose nel secondo tempo, però più possesso palla del Milan nel primo tempo e quindi ovvio che è l'Inter che recupera qualche pallone in più. Però capite bene che una proporzione tra 101 contro 14 c'è qualcosa che non va. E qui mi riallaccio al fatto di un Inter che è più matura rispetto al Milan, perlomeno, ma rispetto anche all'Inter stessa di un anno fa, per esempio, o dell'anno prima. Più matura, che è più presente in campo, che sicuramente ha intensità e va bene, questo è uno spirito di Conte, però c'è proprio anche presenza, cioè vinciamo anche i duelli. Vi ricordate Vessino ieri, quel giallo che ha preso, un po' magari dubbio, però insomma è entrato forte, forse su Teo Hernandez, non vi ricordo, a centrocampo, no? Mi sembra che fosse Teo appunto cercava di dribblarlo, Vessino ci ha messo la gamba assolutamente sulla palla, però è stato un intervento molto ruvido, quindi per questo sanzionato. Però questo dà l'idea, l'idea dello spirito battagliero proprio di non mollare nulla, anche se tutto va male, sei 2-0 e come dice, come ha detto De Vrij, no? Anche nell'intervista dopo partita, alla fine del primo tempo eravamo nella, non so come, nelle feci, però non hanno mollato nulla, questa è una cosa molto importante. E cos'è che caratterizza, secondo me, l'Inter oggi, rispetto a una reazione, per esempio, dell'Inter di ieri, cioè di un anno fa, per intenderci, che un anno fa, se vi ricordate, allo stesso momento, gennaio, febbraio, anche lì l'Inter non mollava tutto sommato, perché comunque Spalletti non è che sia scarso, è un tecnico con una mentalità comunque propositiva, cercava di fare la partita, e non accettava di certo le sconfitte. L'Inter, però, se vi ricordate, aveva delle reazioni assolutamente scomposte, frenetiche, quasi date della disperazione, cioè, veramente, non vi ricordate che eravamo disperati in certe partite, soprattutto appunto tra gennaio e febbraio, abbiamo avuto un passaggio di 2-3 partite l'anno scorso, veramente, dove eravamo frustrati, e i giocatori andavano in campo quasi dal primo minuto, attaccando, sprombattuto, in maniera frenetica, in maniera, praticamente, proprio da disperazione, no? Quello che invece abbiamo quest'anno è una reazione che si basa sulla fiducia, sul sentimento positivo, non su un sentimento negativo. Poi sarebbe bello dire, l'amore, l'amore vince sempre sull'odio, però il discorso è quello, cioè, un sentimento positivo, la fiducia nei propri mezzi, la sicurezza in quello che puoi fare, poi ti porta a dei risultati molto più efficaci che non la disperazione per la situazione negativa in cui sei. E questo è lampante, secondo me, è lampantissimo nella partita di ieri, non abbiamo mai perso la bussola, anche quando eravamo sotto 2-0, nel secondo tempo siamo rientrati, facevamo magari fatiche per i minuti, però non è che abbiamo perso la testa, abbiamo cominciato a fare azioni senza senso, a buttare dei palloni un po' alla cieca per disperazione, siamo andati avanti con il nostro stile di gioco e abbiamo colto le occasioni, e abbiamo costruito poi la rimonta su queste cose qua. Quindi questa è una cosa molto bella. Perché c'è questa evoluzione di mentalità? Sicuramente per il tecnico, ma sicuramente anche perché l'Inter è molto più matura, anche a livello di età. Questa è una cosa, ragazzi, che è lampante ancora una volta. Cioè, gli anni scorsi c'era un'età, diciamo, media molto più inferiore. Chi era l'Inter ieri in campo? Qual era l'Inter? Era, insomma, grosso modo questa qui, no? Con Sanchez al posto di Eriksen nel primo tempo, va bene. Però il punto è che Candreva, trentenne, Brozovic ormai è esperto, Young, espertissimo, 34enne, Godin, De Vrij, Skriniar, tutti quanti comunque giocatori esperti, Godin molto esperto, De Vrij e Skriniar sono comunque maturi, hanno 26 anni, 25, 27 anni, sono proprio nel clou della carriera, sono maturi. Barella era l'unico giocatore senza, diciamo, esperienza, l'unico un po' giovane, perché poi anche Lukaku è un giocatore esperto, Sanchez non ne parliamo, Eriksen è entrato poi, non ne parliamo, Moses anche, 29 anni, cioè, capite, conta tantissimo questo aspetto qua. Mentre il Milan è una squadra ancora in costruzione, molto giovane, piena di giovani o di persone senza grande esperienza. Ora hanno avuto Ibrahimovic e già vedi che comunque porta qualcosa, no? Però, insomma, su questo aspetto bisogna porre un attimo di attenzione. L'Inter degli scorsi anni era un Inter in evoluzione, un Inter giovane, che ovviamente non poteva permettersi di acquisire grandi campioni già affermati, quindi bisognava costruire delle fondamenta e ovviamente Eri però in balia anche di problemi, di imprevisti, come lo è il Milan oggi, no? Infatti consiglio ai milanisti di stare un po' tranquilli, di pazientare, perché avranno anni complessi davanti. Finendo, due parole, su qualche singolo. De Vrij intanto, perché ieri ha fatto una grandissima partita, come sempre, passa un po' sotto testo a volte, no? Perché siamo quasi abituati ad avere un De Vrij che è una garanzia, però è sicuramente un grande e secondo me si meriterebbe anche la fascia di capitano come vice, almeno di Andanovic, no? Oltre, vabbè, a Brozovic, ma secondo me De Vrij è veramente un ragazzo d'oro che non ti delude mai e ieri ha fatto, tra l'altro, una grandissima torsione di testa. Mi ero anche scritto, in realtà poi mi sono anche dimenticato di dirlo ieri, diciamo nell'intro, no? Dei gol, volevo dire proprio l'uomo del terzo gol, perché anche l'anno scorso, se non erro, ha segnato il terzo gol. O comunque ha segnato nel derby uno dei gol della rimonta anche dell'anno scorso con spalletti, no? Quindi, come Vessino, anche Vessino è un uomo derby. Sugli ultimi quattro derby per tre volte è andato o a segno oppure è stato determinante per la partita con degli assist, eccetera. Quindi, sono questi i giocatori che nel derby probabilmente prendono il volo, quindi grande De Vrij. Sanchez, voglio spendere anche una parerina su di lui perché ieri, ragazzi, ha fatto una buona partita. Secondo me il primo tempo è stato molto difficile, ma per tutta la squadra è stato difficile il primo tempo. Però in realtà ho visto grande voglia, l'ho visto già con qualche ritmo più alto, no? Con qualche, diciamo, con una presenza fisica migliore e questa cosa mi fa ben sperare perché comunque è un giocatore di qualità ed è un giocatore che ha sostituito molto bene Lautaro Martinez. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere Sanchez in ripresa. E poi, ragazzi, un'altra parola su Padelli che sicuramente non ha fatto una grandissima partita ieri, però mi viene comunque da giustificarlo perché è difficilissimo, è difficilissimo e per un portiere cominciare a giocare dopo anni, tra virgolette, di panchina e tutto un tratto in partite magari anche molto importanti perché non hai proprio il riferimento della porta, non hai il ritmo di gioco e quindi è normale che tu sia un po' che tu possa essere un po' impreciso su alcune letture, su alcune cose, è del tutto normale, funziona così. purtroppo i portieri sono giocatori che o giocano o non giocano. Non è che giocano un pochino, che hanno un po' ritmo partita e quindi sei proprio fuori dal campo nel momento in cui per anni non parteci più alle partite e poi è un tifoso nerazzurro quindi ci sta anche che sentisse la partita in maniera un po' particolare per quello che magari non ha fatto, insomma, non ha dato il 100% dal punto di vista della prestazione. Per quanto riguarda i portieri sempre, Andanovic sembra invece che abbia dei problemi che vanno un po' più per le lunghe e questo è un po' un problema per noi soprattutto e sembra che l'Inter sia interessata a ingaggiare Viviano per sostituirlo. Viviano è un portiere che era già passato per l'Inter perché ancora nel 2011 se non ero alle buste c'erano ancora alle buste queste cose qui era stato acquistato dall'Inter poi però non ha mai giocato nell'Inter fondamentalmente è stato ceduto tra il Bologna il Genoa eccetera eccetera a 35 anni è svincolato quindi può accettare tranquillamente un'altra squadra e quindi sembra che l'Inter lo voglia ingaggiare non so se per fare il vice Andanovic effettivo oppure per fare il vice Padelli non lo so non lo so questo bisognerà vedere in che condizioni è però se ingaggiano un altro portiere ecco vuol dire che probabilmente Andanovic potrebbe avere dei problemi che durano per più partite per più settimane spero che si recuperi spero che si riprenda perché ne abbiamo bisogno per portare a termine la stagione quindi facciamo un grande in bocca al lupo al nostro grande capitano e ovviamente la fascia in suo onore li importa ragazzi vi saluto dite un po' quello che pensate e ci sentiamo ci vediamo anzi domani comunque nei prossimi giorni anche perché adesso ci sono tutte le coppe anche la Coppa Italia l'Europa League insomma è pieno di appuntamenti quindi l'Inter deve essere sempre martellante bisogna gestire bene le energie e proseguire in tutti i fronti l'Europa League